Per mitigare l'azione del mare e dal rischio evidentemente delle mareggiate servono in alcuni casi interventi di ripascimento strutturale. Questo è il caso di Alassio con due lotti di intervento, oltre 5 milioni di euro di investimento da parte di Regione Liguria, un primo lotto già realizzato, un secondo lotto in fase di ultimazione. Questo è il secondo intervento sul litorale Alassino, sempre con finanziamento dalla Regione Liguria, di 2 milioni e 500 mila euro. Il secondo lotto è iniziato nel mese di aprile, terminarà il 17 giugno. Un intervento che vedrà versare sul litorale 120 mila metri cubi di materiale e 40 metri cubi a metro lineare. Un intervento che permetterà al litorale Alassino di tornare splendente per la stagione estiva. Ci sarà un terzo lotto, prevederà un ulteriore rifascimento e l'allungamento del molo Ferrando a Levante del comune di Alassio. Il terzo lotto prevede un ulteriore stanziamento di 3 milioni e 500 mila euro. Siamo in previsione come tempistiche da febbraio 2023.